Carlo Nordio è il magistrato che dal 1992 al 99 ha indagato sui finanziamenti che arrivavano al PC-PDS dalle cooperative rosse. Giovedì scorso l'illustre magistrato ha partecipato ad un interclub dei Rotari di Arezzo e provincia, tenendo una relazione di grande interesse per tutti gli intervenuti. Nordio ha sostenuto che la figura del PM in Italia è affogata da una quantità incredibile di procedimenti da portare avanti a causa dell'obbligo di indagine penale a seguito di qualsiasi denuncia di reato, anche se di scarsissimo rilievo. Nordio ritiene che la soluzione passi attraverso due processi essenziali, la semplificazione delle procedure e la depenalizzazione dei reati minori. In questo modo si potrebbe liberare tempo ed energie del PM che potrebbe operare quindi più speditamente. A seguito dei numerosi e interessanti interventi e domande da parte dei soci Rotariani presenti, Nordio ha concluso che siamo di fronte forse ad un atteggiamento di pericolosa indifferenza da parte della società civile. Numerosissimi presenti alla serata tra ospiti e soci per un interclub di grande interesse.